Robo 6, going dog vi lascio qui sotto in descrizione il link con i codici che ci regalerà oggi siamo arrivati ben a 40 codici per la beta di Mother Warfare che ci ha donato gentilmente per la community di Call of Duty più tutti quelli che ci hanno regalato alcuni iscritti da regalarvi siamo arrivati quasi a 100 codici regalati per tutta la community di Call of Duty la prossima settimana ne arriveranno tanti altri ragazzi perché vorrei almeno arrivare a darvene uno per uno per ringraziare veramente del grandissimo supporto che mi state dando e che mi date ormai da tantissimi anni vi ricordo che il sito GameKiss.es vende i codici per la beta di Mother Warfare singolarmente ad 1 euro se ne comprate in minimo 3 costano l'1,75 se ne comprate in minimo 10 costano l'1,50 centesimi link in descrizione quindi vi aspetto alle 10 in live per altri 10 codici bene, l'Infinity World ha dichiarato che non rilascia nessun commento riguardo al possibile ritorno di John Soap McTavish nella campagna di Mother Warfare in altre notizie invece hanno anche menzionato che non ci sarà nessuna demo per quanto riguarda il giocatore singolo ma ci mostreranno presto la trama della storia in queste ore stanno trapelando nuovamente nuovi rumors che andrebbero a confermare la Battle Royale sembrerebbe infatti che il gioco avrà una Battle Royale dopo il lancio con sviluppo da parte della Raven Software rilascio fissato a gennaio 2020 e la mappa che starebbero usando per la Battle Royale dovrebbe essere contenuta anche nella modalità 50 contro 50 in questi giorni c'è stata riguardo anche un'importante dichiarazione da parte dell'Infinity World dicendo amiamo la Battle Royale ma in questo momento la nostra nuova grande novità è la Grand War quindi guerra terrestre con tanti giocatori vi ricordo che al momento conosciamo la 10 contro 10 la 20 contro 20 e la 50 contro 50 che al momento sembrerebbe essere testata soltanto sulla 32 contro 32 che è stata confermata essere presente all'interno della beta l'Infinity World inoltre ha confermato che verranno aggiunte nuove armi all'interno del gioco ma gli sviluppatori non hanno spiegato come verranno aggiunte gli sviluppatori affermano di non essersi go inoltre che le ranked play quindi le partite classificate saranno disponibili subito al lancio la nuova modalità Grand War come vi dicevo sarà giocabile all'interno dell'open beta ed inoltre l'Infinity World afferma che con la beta faranno un'importante test sulla funzione crossplay per aiutarla così a migliorare i sistemi al lancio queste le ultime notizie per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare occhi aperti ragazzi perché la prossima settimana sarà molto importante sia per quanto riguarda i contenuti della beta sia per quanto riguarda la campagna di Modern Warfare ci vediamo alle 10 dove praticamente giocheremo insieme regaleremo questi altri 10 codici alla community di Call of Duty per giocare appunto la beta chiusa dei primi giorni del titolo e noi ci vediamo ad un prossimo video e noi ci vediamo ad un prossimo video e noi ci vediamo ad un prossimo video